Si tratta della prima serrata nazionale di partite IVA, commercianti, artigiani e piccole imprese organizzata da un'organizzazione che si chiama Imprese che resistono, che è stata messa in piedi alcuni anni fa in maniera autonoma dalle piccole imprese, che non ha ligami con nessun partito politico e nessun tipo di organizzazione, che nel corso degli anni è cresciuta e che è arrivata a questa prima iniziativa per dare voce a un settore importantissimo che è quello delle partite IVA, quello degli imprenditori che sono circa 9 milioni in Italia e che però non hanno una voce per farsi sentire. Oggi questa è la prima, mercoledì 27 novembre sarà la prima volta che ci faremo sentire in maniera diretta. Per dire che cosa? Per dire che siamo stanchi di una tassazione che è la più alta d'Europa e che non ci consente di lavorare, praticamente lavoriamo fino a quasi la fine di settembre per lo Stato e solo da ottobre in poi per noi stessi, per protestare contro un sistema, una burocrazia che rende praticamente impossibile fare qualsiasi tipo di impresa. Qui in Italia la gente è costretta, gli imprenditori sono quasi costretti ad andare all'estero se vogliono iniziare un qualsiasi tipo di attività perché qui in Italia è veramente difficile per tutti gli ostacoli burocratici che vengono frapposti. Vogliamo anche protestare contro un sistema che è diventato di vera e propria inquisizione fiscale per cui devi pagare anche su redditi che non hai acquisito. Ecco tutto questo sta mettendo in ginocchio, ha messo in ginocchio le imprese italiane. Oggi c'è veramente il rischio che questo Stato e tutto questo di cui ho parlato è solo per garantire una classe di privilegiati e di privilegi che lo vediamo tutti i giorni continuano a sprecare, a spendere e espandere, una spesa pubblica che continua a crescere invece di essere ridotta e che noi dobbiamo continuare a coprire pagando sempre più tasse. Questo è un sistema che non funziona più, che sta distruggendo l'impresa italiana un tessuto imprenditoriale industriale che era uno dei primi del mondo e che sta costantemente scendendo nelle classifiche internazionali con imprese che chiudono o scappano. Allora se vogliamo salvare l'Italia e se vogliamo salvare il lavoro anche in Italia dobbiamo fare in modo che questo andazzo cessi e questa è la prima iniziativa in cui da soli ci riappropriamo del nostro diritto a dire queste cose e a chiedere che le cose cambino in maniera radicale. Allora l'appuntamento è il 27 di novembre, mercoledì, dalle 8 a mezzogiorno e diciamo che la cosa principale, quello che noi vogliamo far vedere è la serrata appunto, si chiama serrata nazionale e consiste nel chiudere praticamente la nostra azienda, chiunque ha un'azienda, un negozio, un'attività commerciale per 4 ore dalle 8 a mezzogiorno. Il ritrovo è in Piazza della Repubblica, ripeto è autofinanziato, siamo solo noi che praticamente decidiamo di fare questa cosa, è simile a uno sciopero e quindi invito tutti dagli agricoltori ai commercianti alle piccole imprese, tutti quelli che hanno un'impresa, una partita IVA di partecipare perché più il numero è grande e chiaramente più abbiamo visibilità e grazie adesso anche al web che la gente comincia a vedere, a capire appunto queste problematiche che ci sono in Italia, abbiamo dato un volantinaggio che abbiamo fatto anche questa mattina porta a porta, abbiamo riscontrato un sacco di interesse, la gente ha già subito affisso il nostro volantino nei loro negozi e penso che parteciperanno molte persone. Diciamo questo è il primo passo che facciamo come imprenditori, poi il 9 dicembre ci sarà l'Italia scende, l'Italia si ferma e praticamente comprende tutte le famiglie italiane, tutti gli italiani, tutti i lavoratori, è una cosa nazionale anche questa ed è già molto grossa, basta pensare che solo i camionisti già hanno decretato che si fermeranno dal 9 al 13 a oltranza se non riusciranno a essere ascoltati dal governo per le problematiche che abbiamo tutti in questo momento che sono tassazioni come ha detto prima Stefano, quelle cose che ha detto lui e anche lì è molto importante perché si comincerà dalle 8 di mattina a mezzogiorno e poi chiaramente chi se la sente lo può fare a oltranza affinché non veniamo ascoltati insomma dai nostri politici. Grazie a tutti.